La ricerca del Renovation Lab ha prodotto output che hanno influenzato in maniera importante l'attività didattica dell'Academy. I due elementi principali trasversali a tutti quanti gli insegnamenti sono uno la rilevanza dei dati ma anche dei modelli di intelligenza artificiale e machine learning che vengono discussi e analizzati dal punto di vista dell'interpretazione dei loro risultati e l'utilizzo aziendale e secondo la grande attenzione per l'economia circolare e la sostenibilità che è stato dimostrato essere nella ricerca uno degli elementi principali anche per la valutazione dei beni immobiliari. Lo scopo della Renovation Academy è formare il futuro professionista della nostra industria quindi dare una competenza che sia al tempo stesso specialistica con insegnamenti dedicati ma anche una competenza multidisciplinare. L'idea quindi dell'Academy è di formare un professionista del futuro che possa maneggiare bene tutti gli strumenti anche digitali ma al tempo stesso avere una sensibilità quasi umanistica per temi che sono più demografici e sociologici. Le relazioni tra banche, finanze e immobiliare sono molteplici. Si considera che l'immobiliare rappresenta una delle principali voci negli attivi delle banche e un po' il crescente interesse anche per intermediari non bancari considerando il basso rendimento di strumenti alternativi rappresenta una delle principali voci nelle ricchezze delle famiglie. Proprio in considerazione dei molteplici canali di collegamento tra l'immobiliare e i vari settori dell'economia la formazione svolge un ruolo essenziale per assicurare che lo sviluppo dell'immobiliare sia sostenibile innanzitutto sotto le dimensioni finanziarie. Sono poi molto importanti anche le conoscenze, la formazione sotto il profilo normativo per conoscere per esempio i vincoli adesso siamo nel Green Deal, conoscere per esempio le opportunità dell'evoluzione continua della condizione normativa nazionale e internazionale e anche sotto il profilo delle nuove tecnologie che assumono sempre un crescente rilievo nello sviluppo di migliore qualità e anche ecosostenibile del settore delle costruzioni. Il learning model della Renovation Academy si articola in due fasi, la fase on campus e la fase off campus, definita anche learning by doing, in cui i partecipanti interagiscono direttamente con le aziende partner academy che hanno investito sul loro futuro con un inserimento diretto in azienda. Il learning model della fase on campus è caratterizzato dalla partecipazione della faculty Bocconi e Sda Bocconi e con l'applicazione di diverse metodologie, dalle lezioni più metodologiche all'analisi di case study, le business simulation, ma anche con l'intervento di top practitioner, il C-suite dei partner lab che portano in aula le best practice e l'approccio applicato maturato sul campo. Le competenze distintive che la Renovation Academy si propone di trasmettere ai giovani talenti che vogliono acquisire competenze manageriali ed economiche nel real estate sono declinabili in tre dimensioni. La prima riguarda l'analisi dei dati ai fini di aumentare la creazione di valore, il secondo riguarda la capacità di dare concretezza ed execution al concetto di sostenibilità e il terzo è la capacità di risolvere i problemi complessi all'interno dell'azienda interaggendo con tutte le funzioni aziendali ma anche con tutti i player esterni che fanno parte della catena del valore del real estate. Gli elementi distintivi della Renovation Academy sono la dimensione social, le aziende partner academy investono sui talenti del futuro offrendo loro un'esperienza formativa presso la Sda Bocconi School of Management e la fase del learning by doing. Il secondo elemento distintivo è la ricerca, la Renovation Academy è parte integrante del Renovation Lab e il progetto didattico beneficia di tutta l'innovazione rilevata a livello di ricerca. Terza dimensione il tempo, la Renovation Academy è un acceleratore che consente ai giovani talenti di essere inseriti direttamente presso le aziende compartecipando al processo di innovazione. Ai partecipanti della Renovation Academy mi sento di dare un consiglio che è quello di sfruttare al massimo l'opportunità unica di ricevere questa formazione molto specialistica in un momento di grande evoluzione del settore, quindi un'occasione unica da sfruttare al massimo. La mia esperienza nella Renovation Academy è stata sicuramente un'esperienza sfidante. Nella fase on-campus siamo venuti a contatto con casi studio proposti dalle aziende partner che quindi ci hanno permesso di poter interagire direttamente con le tematiche del mercato immobiliare. Nella fase learning by doing ho affinato le mie capacità organizzative e soprattutto le capacità di team work. La partecipazione alla Renovation Academy di Sdabocconi è sicuramente appassionante in quanto è un corso multidisciplinare che in sole dieci settimane ti dà quella visione a 360 gradi che ti permette di operare in qualsiasi ambito del settore immobiliare. Inoltre, grazie alla collaborazione con le aziende partner è possibile applicare direttamente in ambito lavorativo quanto appreso in aula. Sicuramente consiglierei di partecipare a quelle persone che sono interessate al mondo del real estate e che hanno voglia di mettersi in gioco. La partecipazione alla Renovation Academy la consiglierei a chiunque abbia un interesse nel settore immobiliare. Abbiamo avuto modo di constatare come non ci sia un profilo ideale del partecipante. Eravamo sia ingegneri, architetti, economisti o laureati in giurisprudenza, ma è stato proprio questo uno dei punti di forza del corso. Tre parole per definire la Renovation Academy? Sicuramente innovazione, network e crescita. Appassionante, interdisciplinare e un'opportunità unica aperta a tutti.